Scontro mortale a Foiano intorno alle 20.30 di ieri è avvenuto in via Arezzo. La vittima si chiamava Johnny Labella ed era residente a Foiano, aveva 26 anni. La sua auto intorno alle 20.30 si è scontrata con un camion. Inutili i soccorsi, il ragazzo è deceduto sul colpo. Sul posto, vigi del fuoco e ambulanze del 118.